Non posso fare differenze per nessuno, o uno c'è in classifico o non c'è. Non è una questione di differenze, signor Gettro. Perlomeno bisogna essere nei dischi caldi, ti ricordi quelli di Giancarlo Guardabassi? Si fermi, il disco sarà ancora nel forno a microonde, cosa devo dire? Stanno scaldandolo? Chiediamo al nostro termometro. Lo sentireste un brano di Enzo Iaghetti? Allora, vedi che sono in classifica, sono nelle classifiche e c'è qualcuno che dice che non è vero. C'è un certo boicottaggio nei tuoi confronti. Con l'augurio di trovarti nei primi tre posti, cosa canti quest'oggi? Pippa di meno. Va bene, non è rivolto almeno. No, un disco dance che sta andando veramente fortissimo. Molto forte, ho sentito che fa forte anche a San Marino. San Marino? Si. E' in Italia? Un piccino, uno stato vicino. Ah ma non è in Italia, vedi vado forte anche all'estero. Vai regia, vai con Pippa di meno! 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 Ma ti fa di meno Ti fa di meno Non vedi che dal nado ti ci passa un treno Ma ora è un po' prima Se vuoi che l'oro in bocca venga di mattina Ti fa di meno E vai un po' più tranquillo e provi prima il treno Ma ora è un baranda Le fai vedere il mare e poi la porti in branda E portala a mare, dai Ti si vede dal chilometro che ne ti vuole Ma che faccia brutta C'hai gli occhi stoccolati ma se c'è la frutta Ti fa di meno 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 Cambia droghiere Ti fa di meno Dai Cambia droghiere Complimenti signor Enzo Complimenti Ho visto anche dalle mosse che lei ha fatto anche il cubista Il cubista? Il cubista, il ragazzo immagine si vede Si Che ha avuto il trascorso di ragazzo immagine Sono stato sui cubi fino a poco fa Questa sua canzone sottende un calmo invito ad una vita un po' più morigerata Sì, un lieve messaggio Un lieve messaggio a quelli che confondono la trasgressione con l'andangir e fai i scemi tutta la no Esatto, infatti è sponsorizzato anche dalla città del Vaticano Va bene Questo qui per caso è il dischino che dicevamo? Eeeh Ma sembra stato apposto Lui, il colore del miele E lui, sono dentro nel suo bel barattolo Va 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 È un disco un po' omeopatico Sì, nel senso che anche se lo senti non fa mica niente Non fa male, non fa male Lo senti, non fa niente Fa bene perché è contagiosa la simpatia di Enzo Iacchetti Thank you, è arrivato Torna Torna a cantarmi sagoma una volta Voglio vedere Durante l'estate Ah, va bene Torna, quando vor Tornerò C'è super estate Super estate C'è una gran bella sagoma, sa? Tornerò C'è una bella donna, la più bella donna italiana Sì Eh, non posso più Non ci so Per la settimana presto Buongiorno, Sergio Enzo Iacchetti è super Buongiorno, ragazzi Grazie